Buonasera a tutti, siamo qui presso il centro Sant'Andrea per dare l'avvio al nostro progetto condiviso dall'associazione Hauser e Nuova Aurora a Balliamo con Gioia. È un progetto che abbiamo proposto tra la nostra associazione dei ragazzi down con gli anziani del centro. E ringrazio il dottor Sperandeo presente dell'Hauser, il dottor Nardino Palmisano della Nuova Aurora anche l'amministrazione comunale che hanno avvallato questo progetto, l'abbiamo portato fino in fondo e ogni sabato ci ritroveremo tutti qua ai PD, i soci dell'Hauser e della Nuova Aurora per stare insieme, ballare e passare un po' di tempo insieme. Per l'occasione oggi che facciamo l'avvio del progetto, facciamo un po' di feste e ci scambiamo gli auguri di un santo e sereno Natale per tutti. Sì, ringrazio voi per la proposta che ci avete fatto e comunque incontra perfettamente i programmi dell'Hauser. Oltre al ballo, noi facciamo anche il ballo, lo faremo insieme, quindi lo faremo anche insieme. So che giocheremo a ping pong qualche volta e comunque abbiamo anche un laboratorio di manualità molto organizzato e quindi svolgeremo, farà delle attività insieme a voi. Noi siamo l'Hauser, non è soltanto fatto di anziani, l'Hauser è aperto a tutti, a tutte le età perché la cittadinanza non ha età, questo è il nostro. Io ti ringrazio perché ci dai la possibilità di attuare un obiettivo centrale dell'Hauser. Cioè non ci sono, al di là delle apparenze, siamo tutti esseri umani, al di là dell'età perché anche noi dovremmo essere handicappati in quanto anziani, non ce ne sono. Ogni definizione è uno stigma e noi siamo contro lo stigma, siamo esseri umani, guardiamo nel profondo. Qua c'è una voglia di abbracciare, di abbracciarsi straordinaria e fa molto bene a noi. Fa molto più bene a noi i cosiddetti, tra virgolette, normali che veramente. Ce ne andiamo a casa pieni di gioia, di soddisfazione e di essere veramente e profondamente umani. Grazie. Buonasera, io sono il presidente dell'associazione Nuova Aurora che assieme all'Hauser gestisce questo centro che il Comune ci ha affidato per fare un'opera di collaborazione con gli enti che operano sul territorio. A maggior ragione con l'AIPT già abbiamo un contatto che risale ai tempi della casa del volontariato in cui purtroppo, siccome si è venuta a determinare una lesione per cui i locali ci sono stati sottratti, ho avuto il piacere di accogliere i ragazzi che con la loro esuberanza e con la loro cosa ci hanno dato quella fiducia che dobbiamo riporre anche loro e dico un grazie al suo presidente. Auguri, un sereno Natale a tutti. Sono contento di conoscere questo progetto nuovo di collaborazione tra le associazioni Hauser, Aurora e Alpd che segue i nostri ragazzi disabili. È molto bello lavorare insieme, oggi c'è un grande bisogno di fraternità, di società e quindi poter condividere insieme degli ideali, dei progetti, dei propositi ci trova favorevoli e vogliamo pure noi collaborare perché tutto possa esprimere questa gioia di stare insieme. C'è un salmo della Bibbia che dice è bello come i fratelli stiano insieme. Auguri, approfitto di questo momento per formulare a tutti gli auguri più veri per il Natale ormai prossimo.